Pensa che ha attraversato e superato i periodi più bui della storia economica e industriale italiana. La crisi petrolifera più grave della storia, il famoso autunno caldo e la marcia dei 40.000, rischiando più volte il tracollo finanziario. Un uomo carismatico, elegante, influente, un imprenditore geniale, visionario e gentile, che ha guidato per tutta la vita la maggiore industria automobilistica italiana, rendendolo una potenza internazionale e lasciando un'impronta significativa nell'economia italiana. Ma anche un pazzo playboy che ha fatto tantissimo parlare di sé. Sto ovviamente parlando dell'avvocato più famoso in Italia, ovvero Gianni Agnelli. Guardiamo da vicino la sua vita. 12 marzo 1921. Gianni Agnelli nasce a Torino. La sua famiglia è già una delle più influenti famiglie industriali italiane. Suo nonno, Giovanni Agnelli, è il fondatore, come tutti sappiamo, della Fiat, che è stata fondata l'11 luglio del 1899. Lui frequenta fin da bambino l'alta società torinese, partecipa a eventi sociali e culturali di prestigio, e matura delle passioni, che saranno l'arte, la cultura, le donne e i motori. Fermi qua! Questo episodio è offerto dall'Accademia Glam per diventare un graphic designer pro. Se ti piace la grafica e se vuoi fare di questo il tuo mestiere, beh, iscriviti in Glam. Avrai nove mesi di percorso accademico senza obbligo di presenza con il tutor dedicato. Guarda il link in descrizione. 14 luglio 1935. Gianni Agnelli ha 14 anni. E quel giorno suo padre Edoardo muore in un incidente aereo. Gianni Agnelli diventa l'erede della Fiat. In questo momento Gianni si lega al nonno, di cui porta lo stesso nome, e nonostante sia giovanissimo diventa già parte attiva dell'azienda. Quindi fa una sorta di formazione e preparazione on the job. Iniziano i preparativi per il suo ruolo di leader. Al momento è Vittorio balletta l'amministratore delegato, perché Gianni ovviamente era ancora troppo giovane. Nel 1939, all'età di 18 anni, Gianni Agnelli si iscrive all'università di legge. E diamo una curiosità, nonostante tutti lo chiamassero avvocato, Gianni non ha mai dato l'esame per esercitare, quindi era più che altro un soprannome. E il 1940, Gianni ha 19 anni, e ovviamente, come tutti sappiamo, c'è la seconda guerra mondiale. Ovviamente è chiamato a servizio, e lui abbandona in quel momento l'università per prestare servizio come ufficiale. Nel 1945, quando la guerra è finita, Gianni Agnelli ha 24 anni e purtroppo rimane anche orfano di madre, perché muore in un incidente automobilistico, senza farlo apposta tutti e due i genitori morti in incidenti sui motori. Nello stesso anno, purtroppo, muore anche il nonno Gianni, che poco prima di morire gli dice prenditi ancora qualche anno sabbatico prima di entrare in azienda, mi raccomando, divertiti. E ovviamente Gianni Agnelli, vogliamo che non segua i consigli del nonno, ovviamente si divertirà in questo periodo storico, e svolgerà qualche piccolo compito in azienda, fa parte ovviamente del CDA, però è Vittorio Valletta ad assumere il comando della Fiat, quindi la rinforza, la rilancia, eccetera, eccetera. Si dice che Valletta e Agnelli abbiano avuto un colloquio, e abbiano detto, ok, esistono solo due possibilità, il presidente della Fiat o lo faccio io o lo fai tu. E ovviamente Gianni Agnelli gli ha detto, ma lo faccia lei professore, ovviamente. E questo è il periodo delle donne e dei divertimenti estremi, quello che lo renderanno il Gianni Agnelli che è stato invidiato in tutto il mondo, il suo periodo formativo. E non come imprenditore, ma come uomo. È il 1947, Gianni Agnelli ha 26 anni e diventa il presidente della Juventus. In questo periodo copre anche un ruolo di rappresentanza, quindi continua a fare viaggi all'estero come se fosse proprio un re, e conosce principi, magnati, diplomatici, imprenditori e politici. La carica effettiva nella Juventus la manterrà per sette anni, vincendo due scudetti nel 50 e nel 52. Rimarrà tuttavia sempre membro onorario, un tifoso appassionato e un critico molto esigente per tutta la sua vita, avendo una grandissima influenza e stima da parte di tutto il mondo calcistico. È proprio anima della squadra, la porta a livelli calcistici ineguagliabili, contribuisce al successo del club, alla crescita, a livello nazionale e internazionale, diventando una delle squadre ovviamente più influenti e più di successo in Italia e in Europa. Sempre con un sincero e viscerale amore. È il 1953. Gianni Agnelli ha 32 anni e che fa? Mette la testa a posto, ovvero si sposa con la principessa Marella Caraccelo di Castagneto, da cui avrà due figli, uno Edoardo che è morto, probabilmente suicida, a 46 anni nel 2001, e Margherita. Ma ha messo la testa a posto, così si fa per dire. Circa vent'anni dopo, non lo sappiamo con esattezza, perché la famiglia è molto riservata, la coppia si è separata, però pur restando legalmente sposata, fino alla morte di Gianni. Chiaramente sappiamo che Gianni era un playboy, ha avuto molte donne, molte amanti. Ed è giunto il momento della Fiat. È il 1963. E Gianni Agnelli ha 42 anni ed è il vicepresidente della Fiat. Nel 1966, Valletta purtroppo muore, quindi Gianni diventa il presidente e amministratore delegato della Fiat. E ovviamente gli è capitato il periodo più critico per diventare amministratore delegato. Gli anni del miracolo economico sono finiti. Gianni deve gestire una situazione molto delicata, contrassegnata da forti tensioni sociali, tra cui l'autunno caldo. Sul piatto c'è il rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici, che verrà siglato nel 1970, al termine di una lunga serie di scioperi. Ma ci sono anche delle problematiche legate alla politica industriale di Valletta. Però in questo caso Gianni dimostra notevoli capacità di leadership. L'azienda si riprende raggiungendo comunque un notevole successo. Si espande a livello internazionale, quindi apre in Polonia, in Spagna, in Jugoslavia, in Brasile, in Argentina, in Turchia e introduce dei nuovi modelli di successo. Tra questi ci sarà la grande Fiat 500. Nel 1969, all'età di 48 anni, fa un'acquisizione, il marchio Lancia, con una visione imprenditoriale veramente innovativa. L'acquisizione porta Lancia a diventare un marchio controllato Fiat, tuttavia mantiene una certa autonomia nello stile Lancia e nella produzione ovviamente dei veicoli di fascia alta e lusso. E nello stesso anno fa un'acquisizione di una partecipazione molto importante, ovvero quella di Ferrari, che negli anni successivi poi riuscirà ad aumentare la quota azionaria. È il 1974, Gianni Agnelli ha 53 anni e viene eletto a presidente di Confindustria, una carica che mantenne poi per due anni. Negli anni 70 dobbiamo sapere che la crisi petrolifera porta a un aumento dei prezzi del petrolio e ovviamente una riduzione della domanda di automobili. Questo provoca una difficoltà finanziaria enorme per la Fiat. Arriva la crisi economica e una concorrenza internazionale nel settore automobilistico. Ovviamente Gianni Agnelli deve mettere in campo una ristrutturazione dell'azienda, quindi un adattamento a quelle che sono le condizioni di mercato attuali. È il 1979, Gianni Agnelli ha 58 anni e c'è una profonda crisi economica. Per riadattare l'azienda dovrebbe licenziare 14.000 persone in Fiat. Quindi avvengono scontri tra azienda, sindacati e partito comunista e vengono bloccati i cancelli di Mirafiori per 35 giorni. Nel 14 ottobre del 1980 ci fu quella che fu la marcia dei 40.000 e sono i lavoratori che reclamano il diritto di poter andare a lavorare. In questo caso avvenne una cosa particolare, ovvero la Fiat ha rinunciato ai licenziamenti ma ha messo in cassa integrazione 23.000 dipendenti. E ovviamente per il sindacato questa fu una grandissima sconfitta e per Gianni Agnelli una vittoria. Però ovviamente sappiamo che di vittoria c'è ben poco perché ci sono di mezzo ovviamente i lavoratori ma comunque un imprenditore deve poter prendere anche decisioni difficili quando si tratta chiaramente dell'azienda e delle situazioni di mercato. In questi anni Gianni Agnelli da imprenditore espande anche gli interessi della famiglia in settori diversi quindi cerca di entrare nel settore dell'industria dell'acciaio nella finanza, nell'editoria e nell'energia. È il 1986 Gianni Agnelli ha 65 anni e fa un'acquisizione molto importante. Alfa Romeo è sotto il controllo dello Stato Gianni Agnelli la vuole e cosa fa? Ovviamente se la prende per far diventare questo marchio di nuovo un grande marchio sotto una grande industria italiana. E nel 1988 Fiat diventa l'azionista di maggioranza di Ferrari rimarrà sotto il controllo Fiat fino al 2016. Nel 1991 a 70 anni Gianni Agnelli è nominato senatore a vita da Francesco Cossiga. È il 2000 Gianni Agnelli ha 79 anni purtroppo la morte di suo figlio Edoardo probabilmente suicida gli provoca un grande dolore. Gianni Agnelli non sarà mai più lo stesso. Il lutto avrà un impatto significativo per la sua vita personale. Ed è il 24 gennaio 2003 all'età di 91 anni che Gianni Agnelli muore a causa di un cancro. La sua scomparsa segna la fine di un'era nella storia della Fiat. Ha lasciato un'impronta duratura sull'industria automobilistica italiana ma soprattutto grazie al suo carisma grazie alla sua personalità alla società nel suo complesso. Soprannominato Re Gianni è stata una figura unica nella storia economica politica italiana. La sua leadership sarà per sempre rispettata e ammirata. Ha trasformato la Fiat da semplice produttore di automobili in un gruppo industriale diversificato che include anche altri settori. Ha intuito l'importanza della collaborazione con i leader politici con i sindacati proprio per promuovere l'industrializzazione e la modernizzazione dell'economia italiana contribuendo così al progresso economico del paese. Cosa possiamo imparare da Gianni Agnelli? Sicuramente è partito avvantaggiato questo è vero però è diventato un leader autorevole questo non è scontato perché poteva vivere di rendita senza prendersi delle responsabilità eppure lui se le prese è stato sempre in prima linea con la Fiat è vero è stato un privilegiato ma ha saputo fare anche tanto ovviamente ha dovuto affrontare delle crisi importanti che non avevano grosse soluzioni se no riadattare l'azienda a quello che è il mercato quindi da lui possiamo imparare che comunque le avversità del mercato le avversità della vita si affrontano sempre mantenendo la propria personalità a testa alta e andando avanti a me Gianni Agnelli piace molto mi è piaciuto molto la sua storia e se questa storia è piaciuta anche a te beh metti like iscriviti al canale e lasciami un commento qua sotto un commento Grazie.